Borse, vestiti, accessori ma anche profumi, tutti rigorosamente contraffatti, sequestrati dai carabinieri della compagna di San Giovanni Valdarno in collaborazione con la Guardia di Finanza e il Commissariato della Pubblica Sicurezza in occasione della festa del perdono a Montevarchi. In tutto circa 500 i pezzi sequestrati dai militari agli ambulanti abusivi nel corso della manifestazione. Ad aggirarsi per le vie del paese sono stati agenti in borghese in aggiunta a quelli già impiegati per la specifica esigenza di ordine pubblico nel corso della festa. Grazie a numerosi servizi di vigilanza per lustrazione e prevenzione le forze dell'ordine sono riuscite a contrastare con grande forza il fenomeno dell'abusivismo nel commercio. La merce sequestrata, appunto circa 500 pezzi, è costituita da numerosi capi di abbigliamento e accessori come scarpe, giubbotti, borse e profumi con il marchio di grande firme. Tutto il materiale contraffatto si trovava all'interno di grandi borsoni da viaggio che i venditori ambulanti utilizzavano per il trasporto della merce ed è stato regolarmente catalogato dai carabinieri della stazione di Terra Nuova Bracciolini.